5, 4, 3, 2... Negli ultimi periodi sono arrivate molte segnalazioni, da molti segnalatori, che hanno permesso alle forze dell'ordine di condurre indagini portando agli arresti determinate persone per spaccio di stupefacenti. E fino qui tutto bene, ma quello che vi vogliamo dire è che nonostante tutto ci siamo sentiti presi in giro da un segnalatore che fino all'ultimo ha voluto sconfiggere il fenomeno droga. Perché presi in giro? Perché proprio oggi è arrivata una segnalazione ben precisa e dettagliata in cui si dice che lo stesso segnalatore di cui noi ci fidavamo si è dimostrato tutto diverso. E vi ripeto, la segnalazione è ben precisa. E adesso, per togliere ogni dubbio, seguiamo questa lettera e verifichiamo se tutto corrisponde a verità. Grazie a tutti. 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 Nello specchio questa sera ho scoperto un altro volto. La mia anima è più vera della maschera che porto finalmente te lo dico con la mia disperazione caro mio peggior nemico travestito da sant'altro. Papattuno. Papattuno. Papacurro 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 Papacurro